Un progetto di riqualificazione imponente da circa 40 milioni di euro, tutto compreso quello presentato dall'Università dell'Aquila per il polo universitario di Coppito che riorganizzerà tutta l'area, mettendo anche in collegamento i due poli esistenti, puntando sulla sostenibilità e l'efficienza energetica, ma non solo. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato sabato scorso in Consiglio Comunale. C'era infatti anche l'assessore all'urbanistica Francesco De Santis, che ha curato la delibera. Si tratta di un intervento destinato a dare un volto nuovo allo storico insediamento che ospita dipartimenti a cui afferiscono i corsi di laurea di ingegneria, matematica, informatica, fisica, scienze ambientali e scienze motorie. Ci saranno nuove strutture, ma anche nuovi parcheggi e una viabilità importante di collegamento pure con l'ospedale. Quello che il Comune ha approvato è lo strumento di attuazione di questo progetto che noi abbiamo elaborato all'interno del DICEA ed è un progetto che prevede una riqualificazione totale dell'area più la realizzazione di nuove strutture. Ci sono sei obiettivi che abbiamo prefissato, quindi c'è un parcheggio interrato, ci sono due strutture di ricerca, una di circa 20.000 m2, un'altra di circa 5.000 m2, parliamo lordi. La seconda può essere anche un punto di riferimento anche per i rapporti tra studenti e docenti, quindi una sorta di hospice per studenti. In più poi tutta la risistemazione per cui spostiamo sostanzialmente il traffico lungo la viabilità e i parcheggi a livello interrato. Quindi c'è una sistemazione definitiva, c'è anche previsto un collegamento pedonale, un progetto di efficientamento energetico dei due poli esistenti. Quindi diciamo che è un progetto che non stravolge nella sostanza l'area, le destinazioni dell'area, le integra, ma soprattutto le riordina e tutto nell'ottica di una forte visione verso la sostenibilità da una parte, ma anche l'innovazione e la ricerca.